Il punteggio di Vanessa Ferrari Steliana Nistor che fa lo stesso salto di Vanessa, questo Yurcenko teso con doppio avvitamento ma a mio parere lo effetto in maniera meno buona di Vanessa, vedete, guardate perché le gambe sono ben aperte, anche flesse e soprattutto non conclude molto bene la doppia rotazione avete visto che arriva con i piedi e il corpo un po' storto, vedete, poi nel passo indietro recupera un po' la posizione ma certamente non...